Siamo in Londra con Cristina Givnici, un design romanziano. Sì vive in Londra e è venuto qui per presentare una nuova collezione che è basata sulla tradizione della Romagna. Ciao a tutti, mio nome è Cristina Givnici, sono felice di essere qui oggi. Ho presentato alcuni dei miei itemi dalla mia collezione recente. Faccio wear women's tradizionali romanziano. La tua attività in Londra è nuova? Sì, è ancora nuova, come ho iniziato nel 2014. È crescita? È crescita incredibilmente veloce e sono molto felice di essere la persona dietro tutto questo. E ho aspettato per molte nuove esperienze. E per il lavoro che sta avanti per il futuro. C'è un'altra parte. C'è un'altra parte. Perché hai chiuso Londra? C'è un'altra parte. Perché non? Londra è il posto per essere e se vuoi successare in fasi, credo sia uno dei maggiori i posti per essere. In la tradizione romanziana ci sono molte colori. E hai detto che vuoi colorare il mondo. È vero. Il mio motivo è di farmi colorare il tuo mondo. che sembrava essere molto bene per una città come Londra è. Ma speriamo che questo cambia. Questa è un'altra parte.